Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze e Scandici e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sempre verso Bologna possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 395 all'altezza di Monte Pulciano Est. Sempre in A1 la notte di lunedì 6 marzo, in orario 21.6, per lavori di pavimentazione resterà chiuso lo svincolo di Firenze Nord in entrata verso Bologna, in uscita per chi proviene da Roma. Sarà chiuso anche il ramo di allacciamento con la 11 per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa. Contemporaneamente sarà chiuso anche l'allacciamento tra la 1 e la 11 per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Bologna. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!